In questo mondo direi che ci possa stare dal nostro Romeo al basso, passiamo un applauso a Romeo al basso perché Romeo al basso in ogni serata, in ogni spettacolo lancia una massima, due frasi, due parole dedicate al paese dove l'orchestra si esibisce, quindi lui è il nostro pensatore e ha pensato così Buonasera, ehi fu, siccome immobile e dato il mortasso il tiro, prese l'automobile e si fece un altro giro Belle parole E dall'Alpe alle Piramidi e da Manzanare al Reno, fece tutta una tirata senza mai toccare il freno Sì Il freno lo toccò, leggermente, piano piano, per venire qui a Gemmano Non è male questa Com'è l'automobile, com'è stata con l'ultimo Leggero, piano piano, per venire qui, proprio a Gemmano E vi posso garantire, non è poi tanto male vivere insieme a un bel cicchiale Grazie